Ciao a tutti, oggi vediamo come si risolvono i problemi di matematica. Partiamo con un primo esercizio. Il testo del problema dice questo. In un triangolo equilatero il perimetro misura 8,1 cm. Quindi tutte le volte che avete un problema dovete fare la figura e poi scrivere a fianco tutte le informazioni che vi vengono date. Per cui ho disegnato un triangolo equilatero, cioè un triangolo che ha tutti e tre i lati uguali e tutti gli angoli uguali. Questa informazione la scrivo a video facendo un segnetto uguale a tutti e tre i lati, così, e un segnetto uguale a tutti e tre gli angoli, così. Il perimetro si indica con 2p e il problema mi dice che vale 8,1 cm. Mi chiede quanto vale la lunghezza del lato. Quindi ho scritto AB, perché tanto i lati sono tutti uguali, quindi è indifferente. Se scrivevo BC o AC era la stessa identica cosa. Come si risolve il problema? Ragioniamo. Il perimetro si ottiene facendo la somma di tutti i lati, quindi questo lato più questo più questo. Poiché questi lati sono uguali è come dire che il perimetro è dato da AB per 3. Quindi se il perimetro vale 8,1, per poter trovare il lato basterà fare 8,1 diviso 3, cioè 2,7 cm. Come prova del 9 possiamo provare a vedere se abbiamo fatto bene. Cioè, poiché abbiamo appena trovato che AB vale 2,7 cm, allora anche BC e AC valgono 2,7 cm. Se i conti sono giusti, 2,7 più 2,7 più 2,7 deve fare 8,1. Se lo fate con la calcolatrice vedete che effettivamente viene 8,1. Passiamo al prossimo problema. Il problema dice questo, se dimezzo ogni lato di un triangolo equilatero viene dimezzato anche il perimetro? Quindi ho disegnato un triangolo equilatero, ovvero un triangolo che ha 3 lati uguali e 3 angoli uguali. E in figura lo indico in questo modo. Mi chiede se dimezzando i lati del triangolo viene dimezzato anche il perimetro. Per poter rispondere a questa domanda il modo migliore è provare con un esempio numerico. Quindi, supponiamo che il lato del triangolo sia lungo 10, quindi AB, BC e AC sono tutti e 3 10. Il perimetro quindi vale 10 più 10 più 10, 30. Ora il testo ci dice di dimezzare i lati, quindi non abbiamo più 10 ma 5. Quindi in questo caso il perimetro vale 5 più 5 più 5, 15 cm. Quindi, sì, è vero, se dimezzo i lati di un triangolo equilatero viene automaticamente dimezzato anche il perimetro. Perché con i lati lunghi 10 il perimetro era 30, con i lati lunghi esattamente la metà 5 e il perimetro è lungo 15. Per dimostrare questo a parole, cioè senza utilizzare un esempio numerico, ragioniamo insieme in questo modo. Abbiamo detto che il perimetro è dato da la somma dei tre lati, poiché i tre lati sono uguali come dire che il perimetro è tre volte la lunghezza di un lato. Quindi, data questa uguaglianza, è chiaro che se questo lato raddoppia, anche il perimetro raddoppia. Perché il perimetro è legato dal lato, in questo modo è dato da una costante, quindi tre volte, per la lunghezza del lato. Questa uguaglianza si dice che è una proporzionalità diretta e quindi questo vuol dire che se il lato duplica, anche il perimetro duplica. Se il lato triplica, anche il perimetro triplica. Se il lato di mezza, anche il perimetro di mezza. Proviamo a risolvere un altro problema. Ok, il problema dice questo. In un triangolo esoscele, e quindi ho disegnato un triangolo esoscele, ovvero un triangolo che ha i lati obliqui uguali e gli angoli alla base uguali. Quindi, CAB, questo angolo, è uguale a CBA, questo angolo. E queste sono le informazioni che ho avuto con il primo pezzo del testo, cioè un triangolo esoscele. Andiamo avanti. In un triangolo esoscele, il perimetro misura 120, 2P uguale 120 metri, e la base misura 50. La base è a B, 50. Ci viene chiesto quanto misura ciascun lato obliquo. I lati obliqui sono uguali, quindi scrivo a C uguale punto di domanda. Come facciamo? Innanzitutto scriviamo le informazioni più possibili nella figura, in modo tale da avere in maniera intuitiva già la soluzione. A livello numerico, l'unica informazione che abbiamo è questa, che il lato è 50. Ora, l'altra informazione che abbiamo è che il perimetro vale 120. Noi sappiamo che il perimetro si trova facendo la somma di tutti e tre i lati. Ora, questi due lati, per ipotesi, sono uguali, perché siamo in un triangolo esoscele. Quindi, per trovare il lato a C dovremmo fare il perimetro meno 50. Quello che otteniamo è la somma di questi due lati. Siccome io voglio trovarne uno, dovrò fare diviso 2. Per cui scriviamo a C, il lato obliquo, è uguale a il perimetro meno la base, tutto fratto 2. Ovvero, in numeri abbiamo 120, perché il perimetro è 120, meno il lato 50, fratto 2. 120 meno 50 fa 70. 70 fratto 2, 35 metri. Pertanto, questo lato e questo lato valgono 35. Se vogliamo fare la prova del 9, andiamo a ricalcolare il perimetro. Quindi, la somma di tutti questi tre lati, se ho fatto bene, deve fare 120. Ora, 50 più 35 più 35, se lo facciamo con la calcolatrice, effettivamente viene 120. Proseguiamo con un altro problema. Il testo dice questo. In un triangolo esoscele, quindi la prima cosa da fare man mano che leggo il testo, è andare a disegnare pezzo a pezzo le informazioni e scriverle. Quindi, il problema mi dice che ho un triangolo esoscele. Faccio un triangolo esoscele, ovvero un triangolo che ha i lati obliqui uguali e gli angoli alla base. E scrivo queste informazioni nell'ipotesi. Quindi, AC uguale BC. CAB, questo angolo, è uguale a CBA, questo angolo. Poi, andiamo avanti. Il problema dice che il lato obliquo è doppio della base. Il lato obliquo è AC oppure BC. Io ho scritto AC, è uguale al doppio, quindi due volte la base AB. Poi, sapendo che il perimetro è lungo 132, e ho scritto come ipotesi 2P 132 cm, mi chiede, trova la lunghezza dei lati, quindi tutti e tre i lati uguale punto di domanda. Allora, partiamo con le informazioni. La cosa più importante che sappiamo è che il lato obliquo è il doppio della base. In questo tipo di problemi, il mio consiglio è individuare l'incognita giusta che mi permette di risolvere il problema. Il trucchetto che vi do è che tutte le volte che avete un'informazione di questo tipo, l'incognita va sempre indicata a quello che sta a destra dell'uguale, quindi al secondo membro. Per cui, chiamiamo AB uguale X. E quindi, in figura, scriveremo che questo lato vale X. Ma se AB vale X, allora, secondo questa informazione, AC varrà 2X, perché 2 per AB, e poiché siamo in un triangolo isoscele, ovviamente sia AC che BC valgono 2X. Ora, dobbiamo capire come trovare X. L'equazione risolvente ce la dà questa ipotesi qui. Il perimetro vale 132. Il perimetro, per definizione, si trova facendo la somma di tutti e tra i lati. Ora, al posto di AB andiamo a scrivere quello che vedete bene in figura, quindi X. Al posto di BC andiamo a scrivere 2X. E al posto di AC andiamo a scrivere di nuovo 2X. E' venuta fuori un'equazione di primo grado. Andiamo a risolverla. Sommiamo i termini simili, quindi 1 più 2, 3. 3 più 2, 5X. Uguale a 132. Tutte le volte che in un'equazione ho un numero davanti, dobbiamo dividere ambo i membri per quel numero, quindi dividiamo tutto per 5. In questo modo 5 e 5 se ne vanno, e 132 diviso 5 viene 26,4. Ma chi era X? X era AB. Quindi abbiamo appena trovato AB, che vale 26,4 centimetri, perché l'unità di misura del problema, vi ricordo, era centimetri. Ma ora che ho trovato X, sono in grado di trovare anche quanto vale AC, perché AC era 2X, quindi AC è 2 per 26,4, ovvero 52,8 centimetri. Andiamo avanti con un altro problema. Il testo dice questo. Due angoli di un triangolo misurano 40 e 60 gradi. Ora, siccome non mi dà nessuna informazione sul triangolo, disegno un triangolo qualsiasi, quindi non isoscele, non equilatero. Mi dice che un angolo misura 40 gradi, quindi ho scritto come ipotesi CAB, cioè questo angolo, 40 gradi, e indico questa informazione in figura. Poi mi dice che l'altro angolo vale 60 gradi, quindi scrivo CBA, ovvero CBA, questo angolo, 60, e scrivo anche questa informazione in figura. Mi chiede di trovare l'altro angolo, quindi l'angolo rimasto è ACB. Come facciamo a trovarlo? Dovete sapere questa informazione. Tutti i triangoli hanno questa caratteristica, che la somma degli angoli interni di un triangolo vale 180 gradi. Questo vale per qualsiasi tipo di triangolo, equilatero, isoscele, scalino. E questa proprietà ci permette di risolvere il problema. Scritto in termini matematici possiamo scriverlo così. L'angolo A più l'angolo B più l'angolo C, cioè la somma degli angoli interni di un triangolo, è uguale a 180 gradi. Per cui, come potete vedere anche dalla figura, per trovare questo angolo cosa faremo? 180 meno 60 meno 40. Per cui l'angolo C, scrivere C oppure ACB è la stessa identica cosa. Per praticità e velocità scrivo solo C. L'angolo C è dato da 180. Se A lo porto di qua, nell'equazione cambia segno, meno A. Se B lo porto di qua, nell'equazione cambia segno, meno B. Quindi la formula da utilizzare è la seguente. Andiamo a sostituire i numeri. 180 meno 40 meno 60 fa 80. Quindi l'angolo C, scritto anche come ACB è la stessa cosa, vale 80 gradi. Andiamo a fare la prova del 9. Quindi andiamo a vedere che effettivamente la somma di tutti gli angoli interni torni 180 gradi. 60 più 40, 100, più 80, 180. Quindi ho fatto bene. Passiamo al prossimo problema. Il problema dice un triangolo isoscele, quindi mi fermo subito e scrivo le informazioni che mi derivano dal fatto che il triangolo è isoscele. Quindi ho disegnato un triangolo isoscele e ho scritto AC uguale BC, cioè i lati obliqui sono uguali. E poi sappiamo che un triangolo isoscele ha anche gli angoli alla base uguali. Quindi CAB, CAB uguale a CBA, CBA. Quindi queste due informazioni mi derivano dal fatto che ho un triangolo isoscele. Andiamo avanti con il problema. Un triangolo isoscele ha l'angolo al vertice di 20 gradi. L'angolo al vertice è questo, cioè ACB, e vale 20 gradi. Mi chiede di trovare la lunghezza degli angoli alla base, quindi gli altri due angoli, l'angolo in A e l'angolo in B, ovvero CAB, CAB e CBA, CBA. Come facciamo? In qualsiasi triangolo noi sappiamo che la somma degli angoli interni fa 180 gradi, ovvero l'angolo A più l'angolo B più l'angolo C fa 180. Inoltre noi sappiamo per ipotesi che gli angoli alla base sono identici, cioè l'angolo in A e l'angolo in B sono uguali, per cui qui posso scrivere A più A invece di A più B, perché tanto sono uguali. A più A è come dire due volte A. Ora, sempre per ipotesi, noi sappiamo che l'angolo C vale 20 gradi e quindi scrivo 20. Questa è un'equazione nell'incognita A, quindi porto questo termine al secondo membro e così viene meno 20. 180 meno 20 fa 160. Divido ambo i membri per 2, questo si semplifica, 160 diviso 2 fa 80. Quindi abbiamo appena scoperto che l'angolo A vale 80 gradi, ma l'angolo A è uguale all'angolo B, quindi anche B è 80 gradi. Prova del 9, vediamo se la somma degli angoli interni torna. Ho appena scoperto che sia A che B valgono 80 gradi, quindi scrivo queste informazioni in figura. E se facciamo 80 più 80 più 20, effettivamente fa 180 gradi. Questo problema, oltre a risolverlo in questo modo, cioè andando a scrivere come equazione il fatto che la somma degli angoli interni fosse 180 gradi e poi risolverla nell'incognita, potevamo anche risolverlo più velecimente in questo modo. Cioè, io so che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. So anche che questi due angoli sono uguali, per cui questo angolo qui sarà dato da 180 meno l'angolo in C diviso 2, ovvero 180 meno 20, tutto fratto 2. 180 meno 20 fa 160. 160 fratto 2 fa proprio 80, come ci aspettavamo. Entrambi i modi vanno bene, scegliete quello che vi rimane più semplice per voi. Comunque sia, l'importante era ricordarsi questa proprietà fondamentale, ovvero che la somma degli angoli interni di un triangolo vale 180 gradi.